Ho scritto un libro sui giovani perché i giovani, anche se non lo sanno, stanno male. I giovani stanno male non per ragioni esistenziali, questo è il grande tema del libro, è chiaro che ciascuno di noi ha dei problemi e ha dei drammi nella propria esistenza, soprattutto in quell'età di mezzo che conduce dall'infanzia all'età adulta e che si chiama adolescenza e giovinezza, ma non è questa la qualità del disagio giovanile oggi, il quale non è psicologico, ma è culturale. Che cosa è successo? A mio modo di vedere è successo che è entrato in casa quello che Nietzsche chiama l'ospite più inquietante, ovvero il nichilismo. Che cos'è il nichilismo? Che tutti i valori non hanno più valore e quindi non ci sono più riferimenti. Mi pare che questo ospite inquietante è entrato davvero nella psicologia dei nostri giovani, nella configurazione tipica del nostro tempo che è quella di un'assenza di futuro. Noi, tutto sommato, quelli della mia età, stavano bene perché il futuro era una promessa, la stessa cosa non lo possiamo più dire per i giovani di oggi, per loro il futuro non è più una promessa, ma è una sorta di minaccio, perlomeno di una sorta di inquietudine, per cui si raccolgono nell'assoluto presente, cercano di vivere al limite dell'esuberanza, dell'espansività che sono i tratti della giovinezza, ma esclusivamente nel presente. Allora c'è da un lato la scuola che non sa più come raccapezzarsi, nel senso che non riesce più a percepire nei propri studenti una sorta di impegno, d'altra parte lo si capisce che impegno vogliamo investire quando il futuro non è visibile nella sua progettualità. In questo scenario c'è la posizione cristiana che dice che questi giovani non riescano a reperire un senso nella loro vita, io non credo che il senso sia una categoria salvifica, noi parliamo di senso di solito facendo riferimento al dolore, quando uno soffre dice che senso ha che io debba soffrire, quando invece è felice non si chiede che senso ha la propria felicità, quella la prende e se la porta via. La categoria del senso che è una categoria religiosa non credo possa redimere questi giovani, penso piuttosto ad una soluzione più interessante, perché questi giovani non li si fa incuriosire delle loro capacità, delle loro abilità, delle loro virtù, qui quando dico virtù non sto pensando a nulla di ascetico, gli antichi greci parlavano della virtù come delle capacità proprie di ciascuno di noi, dicevano che la virtù della terra era quella di generare, la virtù di Achille era quella di battere in velocità l'avversario, se lei facessimo incuriosire i giovani dalla loro virtù, forse questi si potrebbero appassionare di sé, innamorare di sé e imparare quello che per i greci era la grande meta dell'esistenza umana, ovvero l'arte del vivere, quindi non tanto una ricerca di senso, perché Dio poi tra l'altro è davvero morto e la ragione non sembra che sia il regolatore dei rapporti umani, più che una ricerca di senso è un investimento su di sé, se i giovani sapessero appassionarsi e innamorarsi di sé e soprattutto dalle proprie capacità, provando il gusto di vederle fiorire, forse l'ospite inquietante, il nichilismo non sarebbe passato in vano.